E' stato beccato mentre gettava un materasso illegalmente in una discarica a cielo aperto, quella di via San Calogero, della quale più volte ci siamo occupati, ripulita e riformatasi con la velocità della luce. Il cittadino Nisseno è stato scoperto e quindi sanzionato con l'aiuto delle telecamere che sono state installate nei vari luoghi della città della Polizia Municipale, uno dei primi frutti di un processo che è iniziato da tempo addietro da parte appunto degli organi dei vigili urbani che ancora non ha avuto però i giusti risultati, pochi soggetti scoperti, mentre le discariche continuano a crearsi come se avessero una vita propria, troppo poco per una città che parla di rifiuti zero e di differenziata.